Musica Dottoressa De Divitis, parliamo di tumori genitourinari, quali sono i più frequenti e qual è l'incidenza di queste patologie? Tra i tumori genitourinari, ovviamente parleremo di tumori della prostata, che sono i più diffusi nel mondo della popolazione maschile, ma nella fascia di età più giovanile un posto importante hanno i tumori del tessicolo, che rappresentano l'aneoplasia più frequente tra i 15 e i 40 anni, mentre sono più rari dopo i 60 anni. E' importante, secondo me, parlare di questo tipo di tumori proprio perché interessano una fascia di età giovanile e istruire, rendere consapevoli i ragazzi di quello che possono fare per prevenire questo tipo di neoplasie. E' importante perché si tratta di neoplasie che possono essere curate, presentano alti tassi di guarigione, soprattutto se scoperti in fase precoce. Infatti una diagnosi precoce di tumore del tessicolo porta a tassi di guarigione pari anche al 98%, ovviamente se la diagnosi è precoce e se il trattamento viene erogato secondo un approccio multidisciplinare integrato ai centri ad alta specialità. Come incidenza i tumori del tessicolo sono tumori rari come nell'ambito dei tumori generali, rappresentano dall'1 all'1,3% di tutte le neoplasie. Per quanto riguarda la fascia di età, appunto, anzidetta, fra i 15 e i 40 anni è il tumore più diffuso. Diagnosi precoce significa prevenzione. Quali gli strumenti che abbiamo oggi a disposizione? Assolutamente importante questo aspetto perché ciascun adolescente, ciascun giovane uomo dovrebbe imparare a conoscere i propri testicoli, osservandone anatomia, cambiamenti di forma, dimensione, perché è fare una sorta di autopalpazione, di autoesame mensile, proprio esattamente come l'autopalpazione del seno nella prevenzione dei tumori mammari. L'autopalpazione dei tumori del tessicolo può salvare la vita in questo momento. Perché? Perché la diagnosi di tumore tessicolare è una diagnosi clinica. Il giovane uomo può riscontrare o una variazione di forma o di dimensioni del tessicolo, oppure alla palpazione si possono apprezzare delle nodulazioni, a volte possono insorgere dolori acuti. Quindi è importante che ciascun giovane uomo conosca i propri testicoli, che faccia un autoesame mensile, magari anche dopo una doccia calda, quando la distensione del sacco scrutale è massima e quindi consente di apprezzare eventuali nodulazioni. Fondamentali sono gli approcci terapeutici. Quali sono quelli a disposizione e quali le novità in questo ambito? Il tumore del tessicolo è un tumore che presenta alti tassi di guarigione. Quindi un tumore del tessicolo scoperto in fase iniziale ha una probabilità di guarigione di oltre il 98-99%. In stadi meno precoci la probabilità di guarigione, i tassi di guarigione sono intorno al 90%, addirittura è possibile parlare di guarigione in fase metastatica con tassi di guarigione intorno all'80%. Nei tumori in fase iniziale la chirurgia sicuramente riveste un ruolo fondamentale, perché i tumori in stadi iniziale successivamente alla chirurgia potranno essere destinati, se non sono presenti fattori di rischio, a un programma di follow-up clinico-strumentale periodico, associato al dosaggio di biomarcatori quali beta-HCG, alfa-fetoproteine e LDH, che poi verranno prescritti dal clinico. I tumori in stadio meno iniziale con fattori di rischio dopo la chirurgia possono meritare, sempre attraverso un approccio multidisciplinare, un percorso terapeutico più articolato, che si può avvalere, a seconda della decisione del team multidisciplinare, di un percorso di sorveglianza attiva, oppure di radioterapia, oppure di chemioterapia adjuvante, precauzionale, volta a ridurre quindi il rischio di recidive nel tempo. Per i tumori in fase metastatica, il gold standard di trattamento è rappresentato sicuramente dalla chemioterapia di prima linea e successive poi rivalutazioni clinico-strumentali nel tempo. Musica 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 Musica